In Pala del Mauro, prontissimo, già abituato ad ospitare eventi internazionali con la Scandonesi di Cassa, abbiamo avuto la possibilità di rinnovarlo con anche una riqualificazione dei canisti e delle attristature sportive ed è ovviamente pronto per un torneo di basket, un torneo importante nell'ambito delle discipline sportive che si fanno nelle università. Ci sarà il tiro con l'arco allo stadio Partenio, il campo coni è stato da sempre indicato come un campo di training, un mini villaggio delle università in cui gli atleti possono venire ad allenarsi, abbiamo avuto l'occasione di rinnovare gli spogliatoi, un bel rinnovo degli spogliatoi, dopo le università rinnoveremo anche la pista e quindi lasceremo alla città un impianto rinnovato. Faremo training, lo mettiamo a disposizione al training e ci sarà un mini villaggio delle università in collaborazione col coni provinciale per far sì che poi ci possa essere anche promozione di questo evento all'interno della città.